Nella lezione precedente abbiamo parlato della sinapsi chimica, che avviene tramite il rilascio da parte del neurone trasmittente di neurotrasmettitori, che vengono liberati nella fessura sinaptica e successivamente ricevuti dal neurone ricevente. I neurotrasmettitori possono essere eccitatori o inibitori, a seconda di cosa innescano nel neurone ricevente. Un neurotrasmettitore eccitatorio renderà il neurone ricevente eccitatorio, mentre un neurotrasmettitore inibitorio renderà il neurone ricevente inibitorio. Il neurotrasmettitore eccitatorio più frequente nel sistema nervoso centrale è il glutammato, il quale genera delle sinapsi dette glutammatergiche, che sono generalmente assodendritiche. Di solito i neuroni eccitatori sono di proiezione ad assone lungo. Il neurotrasmettitore inibitorio più frequente è invece il GABA, che è l'acronimo di acido gamma-amminobutirrico e genera delle sinapsi dette GABAergiche. Spesso le sinapsi sono assosomatiche e generate da interneuroni, ossia neuroni a circuito locale. Queste regole non sempre sono valide, per esempio esistono anche interneuroni eccitatori glutammatergici. Entrambi questi neurotrasmettitori sono aminoacidi. Esistono altri tipi di neurotrasmettitori costituiti da piccole molecole, spesso derivate da aminoacidi. I più famosi sono la dopamina, la noradrenalina, l'acetilcolina e la serotonina. La dopamina deriva dall'aminoacido tirosina. La carenza di dopamina è la causa della malattia di Parkinson. La noradrenalina è un neurotrasmettitore presente in alcuni neuroni del tronco dell'encefalo ed è un neurotrasmettitore di una parte del sistema nervoso autonomo. La cetilcolina è il neurotrasmettitore dell'aggiunzione neuromuscolare ed è molto usato anche nel sistema nervoso autonomo. La serotonina è un neurotrasmettitore derivato dall'aminoacido triptofano e avrebbe un ruolo nella genesi della depressione. Oltre ai neurotrasmettitori di cui abbiamo parlato, spesso definiti classici, esistono molti neurotrasmettitori costituiti da catene di aminoacidi. Si tratta cioè di peptidi. I neurotrasmettitori peptidici, spesso definiti neuropeptidi, a volte coesistono in un neurone con un neurotrasmettitore classico, svolgendo una funzione di modulazione della sinapsi, mentre il neurotrasmettitore classico assicura la trasmissione veloce dei segnali. I principali neuropeptidi sono la colecistochinina, la somatostatina, il neuropeptide Y. Nell'immagine seguente trovate un quadro d'insieme dei neurotrasmettitori, divisi in neurotrasmettitori classici e neurotrasmettitori peptidici. Abbiamo quindi visto che nelle sinapsi chimiche il neurone trasmittente rilascia neurotrasmettitori che vengono ricevuti dal neurone ricevente. Come vengono ricevuti però questi neurotrasmettitori? Attraverso appositi recettori che catturano i neurotrasmettitori che si trovano nella fessura sinaptica e li ricevono all'interno della membrana postsinaptica. Nella figura li vedete come delle piccole porticine viola che si trovano nella membrana postsinaptica. Abbiamo visto che esistono moltissimi neurotrasmettitori, neurotrasmettitori, quindi ci possiamo immaginare che esistano anche molti recettori. In effetti per ogni neurotrasmettitore ci sono diversi tipi di recettori e la funzione del neurotrasmettitore può cambiare a seconda del tipo di recettore cui si lega sulla membrana postsinaptica. Il tipico esempio è rappresentato dal glutammato che può avere diversi tipi di recettori. Possono essere ionotropici, cioè dei canali ionici ligangated come i recettori AMPA e NMDA oppure metabotropici, cioè non accoppiati ad un canale ionico.